Il fatto che io abbia fatto quello che ho fatto non c'è da nulla, nulla, assolutamente. A parte che non ho fatto nulla, eh, e che non è colpa mia, sia chiaro. Vieni via, vieni via, vieni via, mi trepava le gambe. Una donna strillava, pareva, gli avessero strappato la pancia. No, no, ma chi ha vinto, vedi da chi gli ha vinto. Mi sento toccare sulla spalla, mi giro, ho pensato. Ciao a tutti, sono Massimo Reale, sono qui per dirvi che domenica 11 febbraio alle ore 18, verso il Teatro Pemini di Ariccia, reciterò L'Uomo Sottile, un monologo di Sergio Pirattini con la regia di Manuela Mandracchia, e spero veramente che vogliate condividere questa esperienza con me, perché è uno spettacolo al quale sono molto affezionato e che è pieno di risvolti interessanti e misteriosi. Quindi vi aspetto. Grazie. Grazie.